Indie Gameplay Questa è una vera missione di combattimento Ci sono alcune cose che dobbiamo provare della nave Durante la missione dovrai prendere il controllo di alcune cose Avremo sbloccato altre caratteristiche dell'equipaggio Che erano bloccate nella missione precedente Selezioniamo Lambert, selezioniamo il capitano E clicca sulla Ready to Launch Questo l'avremmo già visto Si decolla e si va con la Sky Piranha Sperando di riportarla a casa Abbiamo nuove feature del capitano Dobbiamo passare alla modalità di targeting E dobbiamo puntare Ah, il portale verso Marte Vedete che abbiamo la possibilità di pattugliare A livello 2 ne sblocchiamo oltre 2 L'abilità è passiva in questo caso Nel nostro capitano Quello di fare manovre evasive all'8% Altre due abilità a livello 4 e a livello 8 Emergency Abort Quindi significa di rinunciare all'azione che gli abbiamo detto di fare E a livello 6 un'altra abilità Acceleriamo il tempo Così almeno andiamo subito verso l'obiettivo Charge Ok Siamo pronti all'hyperjump E finalmente vedremo Marte Prima che tu salti Guardiamo come lavorano i motori Seleziona il tuo ingegnere Uh, ma che spettacolo Questo è il controllo del pannello dell'ingegnere Da qui puoi modificare l'uscita del reattore Nei diversi sistemi Scudi, armi, motori e generatore di gravità Che spettacolo Mentre carichiamo l'hyperjunk 4 unità di power saranno Diciamo Bloccate sulla gestione dei motori Ok Sì, giustamente Fino che viene aggiornato Il reattore ha solo 4 unità di potenza Così attualmente tutta l'energia sarà usata per l'hyperjump Ok, stampato Nota bene che le armi a energia Mostrano che non hanno nessuna potenza Per essere operative Vedete che sì, c'è il simbolino qua Il nostro generatore di gravità E il ricreditore di scudo Sono anch'essi senza potenza Ossigeno E Ok Dopo che tu completi l'hyperjump Il reattore sarà ripristinato al precedente bilanciamento dell'energia E tutto sarà operativo di nuovo Ok, seleziono capitano Saltiamo Non abbiamo generatore di gravità Quindi siamo ancorati a... Va bene Marte Per la gioia di tutti gli appassionati di fantascienza Seleziona Caruso E... Sì Prova a rimuovere un'unità di potenza al gravity generator Sì Nota che dice che non sta andando Sì, sono pienamente d'accordo E quindi Scusate, adesso io voglio fare una prova Se io lo muovo Muovo Caruso da un'altra parte Prova ad aggiungere un'unità di potenza ai motori Sì Ah, alle armi, scusate Esempio Plasma Cannon Richiede più potenza Ok Seleziona il tuo ufficiale E direziona Al suo pannello Ma scusate, io adesso non ho il generatore di gravità Ah, sì, spettacolo Nota come ha difficoltà a muoversi Perché il generatore di gravità non è attivo Infatti questa è la prova che volevo fare Ma il gioco mi ha già accontentato I nemici stanno arrivando Va bene Seleziona il reactor power Alle tue preferenze E muovi La gente Ok Clicca Tuggling mode Abbiamo già tutti Voglio dare solo un po' più di potenza agli scudi E le armi Eh no, abbiamo anche i motori Quindi diamo più potenza alle armi Tuggling mode E andiamo a sparare No Dove sono? Dove stanno arrivando? Sono lì Eccoli lì Pronti ragazzi? Fate quel che dovete Io intanto do un'occhiata qua Se non mi arriva qualcuno sulla nave Sì, stiamo reggendo abbastanza Abbastanza bene Anche se gli scudi No, più energia agli scudi Più energia agli scudi Più energia agli scudi Ehm, dove sono andati tutti? Sono di là Ok, devo ritargettarli di nuovo Ok Abbiamo dato più energia agli scudi Ehm, che sono tornati su Fantastico Dobbiamo continuare Devo capire se vanno targettati sempre O basta farlo una volta Comunque al momento Sembra che stiamo reggendo abbastanza bene Quindi Sì, gli scudi sono ampiamente ripristinati Però Alla fine Sì, il generatore di gravità Ha senso non tenerlo attivo Mentre siamo in combattimento Perché siamo comunque ancorati Ognuno ha la sua postazione E nessuno deve muoversi Tuttavia Potrebbe essere un problema Nel momento in cui abbiamo un abbordaggio Un abbordaggio magari con qualcuno Con una tuta O un qualcosa Che li fa muovere velocemente Noi siamo fortemente penalizzati E Nel momento in cui Dobbiamo Abbiamo tutti a bordo Dobbiamo magari disattivare un pochino Gli scudi O qualcosa E agire internamente alla nave Comunque stiamo andando Discretamente bene Quindi direi che Ce l'abbiamo fatta Navigate to Mars Phobos Sì? Quindi? Sì Autodistruzione Overdrive Perché dovremmo mai fare una cosa del genere? Vabbè Quindi che dobbiamo fare adesso? Navigate A Mars Coso Ok Allora Mars Phobos Dov'è? Mars Phobos Eccolo lì Bene Accelera un po' il tempo Vediamo che la nave va Abbiamo problemi a cosa? Ah il generatore di gravità Vabbè ma tanto abbiamo tutti qua Quindi non è un problema Non so se ci hanno danneggiato l'aul Ma non mi pare di no Accelerate time Ok siamo arrivati Siamo arrivati Che dobbiamo fare adesso? Che dobbiamo fare adesso? Navigate a Mars Phobos Abbiamo navigato a Mars Phobos Quindi Prendi l'ingegnere Non abbiamo altri nemici Possiamo col tasto control rallentare il tempo Vediamo un attimo Mars Phobos E Boo Non lo so Non so onestamente cosa devo fare Comunque andiamo sulla stazione Prendo Caruso Aspetta Gli faccio riattivare il generatore di gravità Ok Vai qua Vedi se c'è qualcosa da prendere Non devo accelerare il tempo Non devo accelerare il tempo No Non c'è niente da fare Quindi Lo rimando qui Non abbiamo nulla da prendere Enemy forces Navigate to Mars Phobos Abbiamo nemici Dicono Ma Io non ne vedo Onestamente Mars Phobos Abbiamo targettata Ma non c'è niente Io non vedo nient'altro Qui Ah forse dobbiamo saltare Ah si 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 Probabilmente dobbiamo saltare Charge Ok Ok Engage Via Andiamo alla luna di Marte Phobos Ok Abbiamo raggiunto la nostra destinazione Pronti? Fuoco alle armi Via La gravità Più potenza gli scudi Modalità di targeting Eccole lì Abbiamo targettati tutti Ce ne sono anche altri No Ci sono solo loro Si poi oddio Marte La terra Vederla così grossa Non è molto realistico Ma ci passiamo sopra Va bene dai Abbiamo fatto questo Ok Uno è andato Diamo un'occhiata Magari Agli scudi E davanti Non siamo messi benissimo Ma va bene Ok Targettati Voglio vedere come sta andando la battaglia La battaglia su più fronti Perché abbiamo altre due persone sotto E altre in arrivo Quindi Dobbiamo fare molta molta attenzione A questa cosa Ci stanno Facendo abbastanza male Devo dire Beh no Ma no dai Gestibile Se gli scudi sono messi bene Io Si direi di si Quindi darei un punto In più alle armi E sparirei a loro Vediamo Vediamo se li facciamo più male Dai 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 che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Forse Ragazzi Scudi No 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 Ragazzi Torna la visuale interna Perché ho bisogno di potenziare gli scudi Ragazzi Più potenza gli scudi Meno le armi Caruso Mi vai a riparare il reattore Grazie Intanto voi di fuori State facendo il vostro lavoro No dai Stiamo ripristinando un pochino Non abbiamo neanche subito Troppi danni alla hull Quindi Ok Caruso Torna lì Cortesia Hai riparato il reattore Adesso Perché eravamo fermi Quindi Probabilmente Stavamo subendo un po' di danni Mannaggia Spero non ci facciano un abordaggio adesso Perché Non è facile sta missione Stiamo un pochino Però devo dire Allora Anche Bomber Crew Non è stato tradotto in italiano Quindi io dubito Che questo gioco Arrivare in italiano Ovviamente Per una volta Capite le cose Le cose da leggere Insomma Ci sono In momenti Più morti In cui si magari Dialoga con qualcuno Si comunica con qualche nave Quindi non credo Sia un grosso problema Poi Bomber Crew L'avevano tradotto I ragazzi che l'avevano tradotto Poi mi avevano mandato la copia Di traduzione E avevo portato Il video in cui pubblicizzavo Questa cosa Era molto carino Molto simile a Until the last plane Che avevo portato Un po' di tempo fa Quindi Gioco davvero Carino Pure questo Pure quello E questo A me piace A me dispiace Anche se Questo combattimento qui Non è che stia andando Proprio benissimo Perché sembra uno scontro Abbastanza Ok no dai Ok Dovremmo anche sistemare L'ultimo Rimasto Ma la luna di Marte E questo sasso qui Phobos Che dovremmo aver fatto Dai È quasi finito Non c'è più nessun altro Non manca più nessuno Olè Abbiamo dei danni? No non voglio Devo ancora fare Torna all'Athena Station Ok dai Torna A rimettere la gravità Torniamo alla normalità Modalità di targeting Torniamo alla terra Quindi Dobbiamo prendere Two base Ok Bene Charge E engage Al momento però Non so se ci sono Fasi sui pianeti Ma non credo C'è una domanda Che sorge spontanea A me Poi niente Sorge anche a voi Prima che tu torni ad Athena Ti spiegherò Un pochino Sui modi di pilotaggio Del Del pilota Sul Pilota Ai Puoi selezionare La piloting Piloting Mod Patron Ok Attualmente Nel momento in cui È taggato il jump gate Ok Press patron Nota che il jump gate È stato Tolto il tag E ora Ora Deve di nuovo Ritaggarlo Ok No Mars Phobos No Athena Base Exit tag in mode Ok Il patrol Praticamente fa la pattuglia Accelere Manda Manda Alla medical bay Un membro Dell'equipaggio Infortunato E chi è Infortunato Di loro Lui Mandalo lì Ok Sì questo è Già visto Insomma Lui va Si fa scansionare Dal dottore E tornerà Operativo Quanto prima Posso Vedete qua La remaining Capacity Ok Possiamo caricare Intanto Per tornare Alla base Engage E andiamo Mentre l'altro è fuori Che si sta Curando Molto bene Siamo tornati All'Earth Station Andiamo a targettare Il luogo dell'atterraggio E completiamo La nostra prima Missione serie In cui comunque Non è stato facile Dico la verità Adesso Magari dovrebbe Sbloccarsi qualche menu In più Per gestire La nave Soprattutto Le missioni Parcheggiamo Molto bene Ero un po' dubbioso Su questo titolo Ma devo dire Che Enemy forces Fast forward Abbiamo sbloccato Abbiamo vinto Altri crediti Ne abbiamo parecchi Adesso Sono livellati A livello 2 Praticamente tutti Abbiamo sbloccato L'abilità di attacco Difensivo Per il pilota Caruso Al boost Del reattore Ho una barriera L'addetta Dell'ingegnere Credo Sì No Della sicurezza Scusate Ha L'azione Diciamo Di riempimento D'emergenza Degli scudi Degli scudi E quelli che sparano Diciamo Hanno un focus Su un bersaglio Preciso Quindi qua Vedete Quello che abbiamo Sbloccato adesso Abbiamo sbloccato Armature Diciamo E aggiornamenti Battaglia L'elmetto Di battaglia Stivali armati I guanti Con Ah ok Di protezione E Un kit D'armatura Ok Siamo nuovamente Qui Ah ok Adesso si è sbloccato Tutto Il reclutamento Possibilità di reclutare Gente Di un capitano Così E altri ruoli Possiamo andare a cercare Quelli che abbiamo Che recuperato Abbiamo Possiamo prendere E anche Quelli di Bomber Crew Quindi se abbiamo Bomber Crew Possiamo andare a Recuperare La gente Gear Crew Possiamo andare a Scegliere Un tizio Dell'equipaggio E andare a Scegliergli L'equipaggiamento Da indossare Tra quelli che abbiamo Trovato I custom Insomma O i Presetta Molto bello E poi abbiamo Le missioni Dove possiamo andare A fare altre cose Bounty Le taglie Oppure Le varie missioni Niente ragazzi Allora Questo Era il secondo Episodio Gioco Davvero Davvero Molto Molto Carino E Lo Space Crew È Un gioco Simile A Bomber Crew Lo ripeto Dove però Gestiamo Una nave Spaziale Non so Adesso Se si Sbloccheranno Altri menu Perché Penso Proprio Di sì Perché Qua abbiamo Punti Ricerca Quindi Potremmo Cercare Nuove cose Ma al momento C'è ancora Tutto Precluso Perché Dobbiamo Andare Avanti Con Le missioni Per intanto Io mi Fermo Qui Dopo Due Episodii Su questo Titolo Mi Aspetto Ampi Vostri Feedback Qua sotto Nei commenti Alla prossima Ragazzi E ciao ciao